Guardi, c'è una famiglia sarda che detiene il record della longevità mondiale. Consentirete a un sardo di tenere il record dell'anzianità parlamentare in Italia? Era il 72. Ha visto la caduta del muro di Berlino. Ne ho visto di più. Ho visto anche la caduta del fascismo. Non è l'ora dopo tutte queste... Non è l'ora dopo tutte queste...